Hola, io sono Marcus Grande e signore e signori bentornati nella Crazy Pack, il pack più... che ci sia, perché ragazzi è qualcosa di assurdo, già la Lucky Block aumenta la varianza e l'entropia del mondo ma la Pandora's Box fa qualcosa di incredibile, cioè quello quello è l'angolo del Gay Pride e vabbè ragazzi io sto davvero davvero male non mi ritorna l'influenza ma sto di un raffreddato pazzesco quindi perdonatemi se suono la voce un po' nasale ma devo registrare proprio assolutamente in vista di tutto il Natale, il Capodanno e queste casine qui ma... ho paura delle termite ma in nome del buon proseguio di questo pacchetto della mia volontà di fare le armature ho aggiunto una mod, in realtà ne ho aggiunte due una è un utility mod e finalmente signore e signori abbiamo l'invento di Twix che cazzo è questo? gift sac a gift from Rizkekei doll mini mini ciao ciao oh ma che carino riprendilo ma che carina questa cosa è inutile quanto carina ma che bellissima aspetta ti devo dare un posto ti metterò qui per stare sempre con me allora oh mio dio questi questi poi va no non ci stanno altri pezzi di armatura non ci voglio credere infatti ci sono oddio chi è che sta venendo picchiato ta 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 eccolo grande grande amico peccone di steel guarda è bello vediamo un po' che fa? si può muovere ma è bellissimo ti è e gli posso mettere anche un casco strano tipo una testa o qualcosa del genere tipo questi oh grande è bellissimissima si ci stanno i cactus che si stanno suicidando qua sotto va bene lo stesso ok allora che cos'ho aggiunto? vi ricordate che ogni tanto mi lamentavo il fatto che non ci fossero metodi di mining o metodi di automazione ci sta nella nella spacecraft c'è la progressive automation che è una mod che non c'entra quasi niente con la tecnologia quindi va molto bene qui va a carbone in realtà che ci permette di fare alberi minare che nella spacecraft è bloccato invece qui si può fare e iron generator questo serve per fare gli RF non c'è il planter come mai non c'è il planter? non lo so perché non c'è il planter però va bene lo stesso planter? quante cose quante cose al mondo puoi fare? progressive automation penso che aggiungerò dopo bia il naso penso che aggiungerò almeno un'altra mod che riguarda i cavi perché ragazzi poffa che ogni volta devo spostare ma aspetta posso mettere fantastico adesso posso almeno identificare tutti i soldini che stanno qua prenderli e metterli tutti dentro una chest fissa standard tipo non lo so non ce ne ho è tutto pieno oh mio dio ma che cazzo ci fanno fare con tutti i soldini ciao come stai tutto pieno per ora io li metterei qui anche se in realtà non andrebbero là però va bene lo stesso eccoci qua allora quindi perché perché la moda dei supereroi ha dei minerali molto 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 rari che potremmo metterci a scavare però ci metteremo decenni quindi volevo fare il wooden miner che però penso di poter fare non lo so si abbiamo lì qui all'ant exchange io prendo il liberculo lo metto qui ci butto il liberculo dentro vado a prendere il legno giusto? giusto pronto? legno non ho messo il legno posso essere così coglione da non aver messo il legno? vediamo vediamo scopriamolo ah ah no dai non ci credo ci ho messo il legno ma sarò un papeo ma perché? andiamo a prendere il legno ma è possibile? ma come mais? va bene allora prendiamo il legno ok prendiamo anche un altro pezzo di legno specca te dunk shell lì ci sono delle zucche qui c'è lo squirt ah qui c'era il lucky block giusto 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 poi ce ne facciamo un'altra puntatina ciao come stai? ciao come stai? vaffanco poi ce ne facciamo no no che cazzo ha fatto quel buco? sicuramente io shhh sicuramente io conoscendomi allora facciamo gli app lo hackwood e il plant tagliamo un po' oh bravo la calabazza ma mazza il faccio salve vedo tagliar barba cioè no tagliar in una maniera incredibile ma devo rifinire ok wood 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 che altro gli serve al ciccio pelato il vabbè il pickaxe lo possiamo fare le chest non sarebbero male no perché? ce l'aveva allora brutto figlio di sultana oh hack no no ho premuto oh hack ok 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 oh forse 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 ho esagerato forse ehi no doi ma perché non c'è una via di mezzo in questo coso? cioè non fa culo ok pronto? ah ah cosa sta accadendo raga? ah via via ah ma perché dentro ce n'è un botto ah ma ogni volta la togli ma là si strozzo scusa eh strunz vediamo un po' così dove me l'ha messi diamanti ah persi per sempre ma siamo veri tre pezzi di lingotti oh così e poi io ce li butto dentro ok scusate mi ero un attimo distratto e dove è la nei? eccola ecco la molto bene allora mi serve una fornace scusate disturbo dell'attenzione dropper no prendiamo la cobblestone ne prendiamo otto pezzi in realtà vorrei prenderne un po' di più sedici perché così facciamo ogni volta non dobbiamo eh ne facciamo di più e poi ce ne buttiamo dentro come dei laidi sozi schifosi ok grazie per l'archivement hai fatto una fornace in minecraft che è una cosa che non succede mai stick thank you bellissimo di questo olè voilà poi ah dovevo fare la cesta sono un pirletto e voilà chest piccon house fornace e sì oh no ah ah sì e legno grezzolo signori abbiamo il wooden miner ok lo voglio fare subito di stone quindi dobbiamo andare prendere qui nope dobbiamo andare qui molto bene ci buttiamo dentro il liberculo la voce che se ne va stone dimmi che ho fatto la stone eccola qua la stone spam io però davvero vorrei tantissimissimo che tu mi portassi via questa questa legna questa legna è bella è molto bella però io dai cancella legna cancella debito ok 21.000 e batte la pianta il culo perché perché c'ho questi qua fantastico ok c'ho questo c'ho questo c'ho questo mi serve la cobblestone un'altra fornace no la fornace no non credo boh non lo so intanto io mi prendo anche no l'oro no il forro eccolo qui e i blocchi di ferro e un sacco di ferro perché sono un esoso allora iron no il stone miner dobbiamo fare il piccon house di cobblestone e poi dovremo avere tutto non me lo fa perché è un maledetto bastardo figlio di sultana eccolo qui ed eccolo qua perfetto poi stessa cosa lo dovremo poter far diventare almeno credo gli eppola quindi per fare l'iron ci vuol tu nonna per far tu nonna ci vuole nonno per fare nonno ci vuol tu sorella se sta fa notte mo esce bagman c'ho paura help I need somebody help na 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 allora vai coi diamantini perfetto vai coi diamantoni nope allora ci dovremo essere abbiamo quasi fanaito perché facciamo così così e voilà non mi stacca le cose non staccabili e questa cosa è un po' un dito in the ass ok ci abbiamo tutto ragazzotti l'importante è partecipare cosa vuol dire non lo so ho detto una cosa a caso giuro allora due uuuu è vero è vero è vero due diamantolli anzi facciamone che togliamo sto cacchio di coso di troppi diamanti va bene va bene sta cosa è oppi però cazzo ho un minimo di fregni e facciamo subito scivissimo un piccon house eccolo qui perfetto allora è notte non si vedeva io direi di andare a dormire non posso perché ci sono dei mostri quindi noi fregandocene il cazzo sbattendocelo proprio sbattendocene in cene in cene facciamo così piazziamo questo qui vediamo come funziona fuoco e piccone uuu vuole anche la pala uuu accidenti accidentaccio va bene aiuto ho paura ho paura rega faccio pure visto che c'è una chest faccio gli stick faccio una pala di ferro no una pala dei diamante vai cobblestone vuoi la cobblestone cosa vuoi broccoli che vuol dire voglio la cobblestone scusa ho sentito un rumore aaa oddio no il cactus assassino no dentro cosa no sta succedendo una cosa brutta ok vuole la cobblestone non so perché io l'ho presa come al solito poca vediamo se mi fa dormire si 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 ok daie 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 eee niente creeper per favore io mi voglio spostare da qua non mi piace sto posto struzzi molto bene ragni una termite fatta piando il culo ok cosa sta facendo sta mirando qua sotto si e la rimpiazza con la cobblestone ragazzi accidenti se io metto una cesta sopra lui la scarica qua dentro uh e ci si mette il coal fantastico però consuma sta cobblestone ah no la rimpiazza se la trova la rimpiazza carino ok ha finito ha finito vuol dire che è arrivato sotto ciao stupidissima formica quindi per potenziarlo per sperare di trovare qualcosa ci servono gli upgrade gli upgrade che si fanno così perfetto allora ne voglio tanti ne voglio davvero tanti la soluzione è svuotarsi l'inventario così 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 molto bene glielo ho fatto imparare l'hopper hopper no no l'hopper non glielo ho fatto imparare quindi ora andiamo degli hopper cioè facciamo degli hopper non possiamo fare degli hopper perché non abbiamo nessun tipo di risorsa dov'è il ferro 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 eccolo qua ok poi che dovevamo fare dovevamo fare dovevamo fare OH BEM oddio santissimo lampadario danna c'è la puttana scusate c'è un problema di sorta ok ok diamante ok ok diamante ok ok diam dai quanti ne voleva io ne voleva tutto intorno quindi 8 ok 4 no questo è coal marcus cron non ti sbagli tanto saltella saltella il giovane cactus 1 2 3 4 5 6 7 8 perfettolo siamo sicuri che voglio farla voglio farne così tante secondo me mi scava tipo dentro casa niente non c'è il tasto per prendere lo stack regà e ce dobbiamo fa il callo allora facciamo così e poi così dai ne facciamo ne facciamo soltanto 9 13 17 20 dai 20 20 20 20 20 20 20 di questi poi ci serve la stone e visto che è un procedimento molto noioso direi che ve lo taglio a frappè regà considerate che tutto sto scherzetto mi ha fatto consumare tutto quanto io non ho più diamanti cioè avevo un botto di risorse non ho più diamanti quindi oh merda ah no 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 aspetta era così ok quindi possiamo fare soltanto 12 però dovrebbero aumentare il raggio di non poco forse io l'ho fatto troppo vicino a casa ma chi se ne frega della musica ragazzi PEM 13 di raggio ok qui ce va a finire il call forse recupereremo col tempo non lo so non si sa vedete il call che è strano però se rimane qui dentro dopo va a rimettersi qua altrimenti sale che è salito uuuuh silicon chunk signori già dai suoi frutti uuuuh purple crystal iron bronzo bronzo ottimo 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 grande zaffiro no raga ottimo fantastico fantasticissimo ottimo lavoro balco scroll ottimo lavoro e questo qui dovrebbe andare così il call dovrebbe rimediarlo se non lo rimedia glielo potremmo dare noi questo sta lavorando sta affinando un po' la cobblestone forse gli dovrei mettere un hopper con del call e della cobblestone così per sicurezza qui ci sta una formica e signore e signori nella prossima puntata scopriremo i frutti del sieno tuo Gesù soprattutto di tutte queste cosine belle bella regà grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori